Beppe Accardi, il mercato sta per entrare nel vivo, gli ultimi giorni saranno di fuoco? Mi auguro, vedendo quello che c'è stasera è abbastanza moscio, però credo che da domani qui si inizierà un pochino a correre o almeno mi auguro veramente che succeda questo. Siamo ormai abituati nei mercati di gennaio a non avere dei grossi movimenti o meglio in particolare non avere dei movimenti di soldi, però credo che comunque da domani si entrerà nel vivo. Vediamo anche dei suoi assistiti in Baillet, come sta andando la sua crescita, quale sarà il suo futuro a breve? Ma quale sarà? Lui sta crescendo, è sereno, è normale che avere iniziato l'annata facendo parlare di sé un po' in giro per l'Europa è qualcosa che gli ha dato un pochino di destabilizzazione, adesso ha ritrovato la serenità, ha trovato di nuovo la sua tranquillità in campo e adesso è ritornato ad essere in Baie che tutti conoscevamo. Io mi auguravo che avesse un pochino più di spazio, però stiamo parlando comunque di un ragazzino di 18 anni ha compiuto 18 anni a novembre, sa che deve crescere e sa che deve lavorare molto. Quello che riguarda Rinaudo invece l'esperienza Napoli non è stata felice, perché? L'esperienza Napoli non è stata felice, il problema di Rinaudo è stato che due anni fa sfortunatamente quando è passata la Juventus, dopo aver fatto l'unica partita la Juventus anche abbastanza bene ha avuto un problema fisico che ringraziando a Dio ha messo a posto e adesso sta preparando per ritornare alla grande l'esperienza Napoli non è andata bene perché le ciambele non sempre riescono col buco sicuramente un giocatore che ha fatto delle società come Siena, Palermo, Napoli e Juventus è un giocatore che è andato in crescendo, però a volte anche nei momenti importanti ti capitano delle situazioni che ti mettono nella condizione di fare tre passi indietro anziché uno in avanti adesso per fortuna è ritornata ad avere una condizione ottimale, vedremo cosa succede nel calcio mercato di gennaio se no poi quando saremo a giugno andremo a valutare il da farsi Per adesso che ipotesi ci sono? Ma guarda per adesso ci potrebbero essere delle ipotesi dall'estero che stiamo valutando stiamo vedendo un attimino, però non so, onestamente dico che sono cose che si fanno al photo finish Visto che stiamo parlando di difensori, il Napoli avrebbe comunque bisogno di una pedina in più nel reparto arretrato o no? Ma guarda, il Napoli è una squadra che ha il suo equilibrio, ha trovato il suo equilibrio ha dei giocatori che adesso si sono ben consolidati con quello che è l'assetto dell'allenatore Tutte le squadre avrebbero bisogno di qualche giocatore in più, però a volte magari prendere un giocatore in più ti può creare anche degli squilibri a livello di spogliatoio che possono creare poi delle problematiche in campo Io credo che il Napoli stia lavorando bene da quando è ripartito col nuovo corso di De Laurentiis Sono una società che ha dimostrato di avere una programmazione importante e credo che le persone che stiano lavorando a Napoli abbiano la competenza giusta per fare crescere questa squadra Loro sanno quella che è la realtà del loro spogliatoio e alla fine credo che solo loro possano rispondere a questa domanda Io credo che il Napoli sia una squadra che sia ben assortita e magari perché no, magari andare a prendere un difensore in più come dicevo prima potrebbe creare delle problematiche, però io non sono dentro lo spogliatoio e non sono in grado di poter giudicare Di sicuro quello che posso dire è che il Napoli ha dimostrato di lavorare bene e di continuare a crescere anno dopo anno e oggi si ritrova a lottare addirittura per lo scudetto, credo che abbiano la giusta programmazione per un club importante Un'ultima curiosità su Cargiat, dopo essersene andato dall'Italia, adesso ha voglia di tornare a giocare nel nostro paese o no? Ma Cargiat è sereno, in Qatar come tutti sanno si vive un calcio molto più sereno e più tranquillo non ci sono le tensioni e le pressioni che ci sono in Italia, da subito è stato accolto nel modo migliore sta facendo una stagione decisamente ottima, non credo che abbia tutta questa voglia di ritornare a giocare in Italia però poi sai, sono tutte cose che sono momentanee perché comunque il calcio degli spettatori, il calcio importante alla fine manca un po' a tutti Lui adesso è sereno e sta bene, sta bene sotto tutti i punti di vista, ha fatto un ottimo contratto per due anni addirittura ci sono delle squadre sempre del Qatar o di Dubai che sono interessate a lui, vedremo Credo che l'ipotesi di ritornare in Italia sia un po' dura anche perché col contratto che lui ha sottoscritto in Qatar non credo ci siano oggi i margini per poter rifare un contratto del genere in Italia